ciao biker dediti all'estremo per noi biker non c'è cosa più bella di provare scoprire chiudere nuovi entusiasmanti trail ecco perché siamo qui si questo è un nuovo nuovissimo nuovo trail nuovo di fecca insomma questo trail è nuovo partiamo dalla ancora la parte iniziale deve essere realizzata il local ottengono segretissimo per l'apertura la grande apertura qui c'è il primo salto il trail continua e si disintegra si distrinseca si disirinsica insomma il trail continua in mezzo al bosco ma lo so che cosa vi state chiedendo dove si trova questo trail come si chiama è difficile e facile quanto è lungo beh belve a queste domande avrete risposta nel futuro dove l'adrenalina scorra fiumi però mi raccomando non iniziate a cercare questo trail non fatevi domande a cui non sapete dare risposte ma aspettate perché in questo trail scorrerà l'adrenalina solo se mi seguite e se mi seguite in questo nuovo trail vedrete l'adrenalina scorre ma ricordatevi che se volete continuare a fare in modo che l'adrenalina scorra seguitemi perché solo se mi seguite scorra